allora siamo qui con matteo marcus boc è passato sono passati nove mesi quasi un anno dall'ultima volta che ci siamo visti e che abbiamo fatto più che altro che ci siamo visti che abbiamo fatto un'intervista in video già ed è colpa tua è colpa mia sì perché vado sempre in giro ti abbandono anche tu sei sempre in giro sei sempre in germania in effetti è vero sempre in germania sempre con questa gente qua però è divertente vorrei fare un pochino più in italia però beh ma dai vedo che stai lavorando bene anche per quello tra l'altro stiamo lavorando un bel po tra un po magari arrivermo anche in italia assolutamente sì ma ascolta te la ricordi quell'intervista la prima che abbiamo fatto sì certo era quella di just one lie se non mi sbaglio che era una parte a scuola e una parte a naviglia che è vero sul set del video esattamente sul set del video ok io se ti guardo adesso rispetto a quell'intervista lì me la ricordo perfettamente ti vedo molto cambiato non solo fisicamente ma proprio cambiato anche tu tu se la riguardi adesso con intervista tanto la ricordi che cosa noti oddio sinceramente specificamente non me la ricordo benissimo mi ricordo le domande tutto quanto però caratterialmente non so benissimo come sono cambiato sicuramente credo di essere più sicuro di me probabilmente anche perché in quest'anno abbiamo fatto veramente tanto quindi tra palchi e interviste secondo me adesso davanti a videocamera sono un pochino più convinto e credo sia una cosa buona assolutamente sì basta non non troppo non a non diventare presuntuosi ma non credo sia il tuo caso anche perché se a volte si confonde la sicurezza in se stessi con appunto l'essere presuntuosi mentre comunque quando uno sa il fatto suo e sale su un palco ovviamente vuole dare il meglio di sé credo che in questo caso sia così per te sì certo bisogna cioè quando io vado su un palco è la mia priorità quella di far divertire il pubblico quella di far vedere un pochino di quello che sono io alla gente quindi sì ma tra l'altro tu hai scelto diciamo una carriera da cantante che si ispira comunque i performer adesso potrei citarti michael jackson per fare proprio andare sul numero uno ma c'è justin bieber ce ne sono comunque tanti di tutte le fasce di età essere un performer vuol dire comunque saper cantare saper muoversi sul palco saper ballare e dietro di te c'è un gran lavoro nel senso che tu ti fai diciamolo pure un culo così dalla mattina alla sera e nel frattempo vai a scuola cioè mi racconti per far capire anche comunque cosa cosa c'è cosa vuol dire comunque tutto quello che fai tu la fatica che fai per arrivare a poi essere sul palco e fare un'esibizione di quel tipo che magari chi è a casa non lo sa non lo conosce beh sì certo è un gran lavoro questo e molto spesso la gente non vede tutto quello che c'è dietro dice ah questo qua un cantante canta e fa solo quello cioè in realtà c'è un lavoro molto più duro dietro secondo me che ho iniziato a vivere anche io anche essendo all'inizio della mia carriera all'inizio sono anche giovane quindi 23 anni no sempre giovane esatto ma tu 22 ah davvero che sei invecchiato anche tu sorry sorry io 14 esattamente 13 sicuro ok quindi passato non nette sì però c'è tanto lavoro dietro soprattutto perché anche come detto tu si va anche a scuola perché l'educazione sempre deve essere la mia priorità quindi mi sveglio al mattino e finisco scuola alle 4 perché ho cambiato scuola ed è molto più americana però anche più difficile in altri modi che mi supporta molto in quello che faccio però è sempre scuola e poi ovviamente bisogna allenarsi per le esibizioni bisogna allenarsi con la chitarra col canto anche perché mi sta cambiando molto la voce quindi devo stare molto attento ci sono dei periodi in cui mi risveglio che non riesco a raggiungere delle note che raggiungevo il giorno prima quindi è un po' un pasticcio e attualmente cosa stai facendo cioè a parte la scuola in cosa ti stai esercitando? mi esercito facendo lunedì è sempre più o meno il mio giorno di pausa perché quando torniamo dal weekend tedeschi mi piace sempre avere una pausetta anche perché devo recuperare i compiti e tutto quanto però da martedì inizio a fare due ore di chitarra, due ore di piano, mercoledì faccio tre ore di ballo giovedì faccio tre ore di canto, barra 4 e venerdì di solito partiamo di nuovo per la Germania settimana abbastanza impegnativa soprattutto perché non troviamo bene il tempo per fare tutto quanto anche perché devo studiare tutto compresso però vabbè sei giovanissimo ma hai tanto di quel tempo davanti per migliorare in tutto vero tanto tempo per migliorare però il tempo manca nella giornata cioè dici tipo sono già passato 24 ore quando vorresti avere più tempo per farle ma il tempo libero riesci a averlo ancora? come niao? e gli amici quando li vedi? sinceramente non sono mai stato uno che va sempre fuori con gli amici e tutto quanto anche perché spesso a un certo punto non so come si dice in italiano ti ricordo che sei italiano esatto they gave up come si dice hanno come si dice oddio vabbè ci hanno rinunciato ecco perché star dietro ai tuoi ritmi più o meno esatto perché all'inizio ovviamente anche cambiando scuola mi iniziavano a invitare per tipo delle feste così però di solito erano nei weekend io nei weekend sono sempre fuori Italia quindi non sono mai riuscito veramente a incontrarli fuori dalla scuola poi in scuola abbiamo sempre un rapporto molto grande molto bello però non è la stessa cosa ovviamente però il mio tempo libero io ritengo sempre che la musica è il mio tempo libero io quando faccio musica sono felice quindi è come il mio giocare per dire bisogna passare tempo facendo le cose che ci rendono felici quindi va benissimo così ma ascolta tra le lezioni che fai qual è quella che al momento ti diverte ti viene più facile e quella che un pochino invece ti fa tribulare allora una che mi fa un pochino tribulare sicuramente piano perché non essendo tanto esperto perché avendo iniziato didatticamente autodidattica da autodidatta da autodidatta adesso sto cercando di imparare più le tecniche e come si fa veramente quindi è sicuramente complicato però mi diverto molto perché è sempre una cosa bellissima imparare un nuovo strumento anche perché poi il pianoforte è uno dei più difficili lotti diciamo tanti che lo suonano iniziano da bambini si iniziano molto giovani quindi ho tanta strada davanti